La consulta serve per far sì che la voce delle associazioni, il volere delle associazioni o il pensiero della associazione venga preso in queste situazioni, ciò che non è avvenuto. Mi pongo un paio di domande, perché adesso diciamo che la mia pazienza è iniziale. Prima, la cultura forse meno importante del revisore dei conti o dei vari regolamenti elencati da consigliere Masiello, prima cosa, se è più importante lo dicesse e l'ha detto, il problema è un altro, sono 13 mesi, questi regolamenti di una settimana fa, 10 giorni fa li ha avuti, in un altro anno che ha fatto? Cioè no, io lo dico con tranquillità, senza polemica, vorrei avere una risposta. Quindi quasi quasi mi viene voglia di dire faccio un passo indietro, però ho un impegno con le associazioni di portare avanti il regolamento. Grazie a tutti.